Pronti? Uno, due, tre. Il secondo segnale è quello valido. Munter non impiega molto a prendere il comando delle operazioni. L'errore di Ornella Trio in seconda posizione, Nord-Westersi, va a... Numero tre, Ornella Trio, squalificato. Il secondo segnale è Olga De Gleris, avanti a Pannonica, quindi Nureyev-Cemp, il più sollecito dal secondo nastro. Passaggio davanti alle tribune, una lunga fine indiana aperta da Munter che ha sullo slancio preso un paio di lunghezze di margine e tende a stiracchiare di Bella. Nord-West rimane secondo, avanti a Olga De Gleris, Pannonica, quindi Nureyev-Cemp, ancora meno di De Chiari, alla retroguardia. Manolo ZS, Provenza, partita male, con un'incertezza. Si va sulla seconda piegata in uno schema che sostanzialmente non muta. Prosegue in avanti Munter, che ha provveduto ora a moderare sensibilmente l'andatura. va a chiudere il primo giro di corsa nell'ordine del 1,7, abbondante. Si va sulla piegata in sinistra per la seconda volta. La mossa esterna parte di Pannonica, che si industria al fianco di Nord-West e arriva all'altezza del Salchi e del Battistrada. Passaggio davanti alle tribune per l'ultima volta prima dell'arrivo. Pannonica la mette ora sul ritmo al fianco di Munter. per le sue mosse seguite da Olga De Gleris. Allargo anche Manolo ZS e Provenza, 36, questi 400 metri intermedi. Con Munter che replica la presenza esterna di Pannonica. qua mette sul ritmo ora, quando si torna di là, il parziale della curva in 15-3. Segno che comunque il ritmo è cambiato drasticamente rispetto alla prima parte di gara. Munter replica Pannonica mantiene un collo di margine a metà della dritta di fronte, due seguiti rispettivamente da Nord-West e a largo Olga De Gleris. il completamento del Miglio in 2,7 e mezzo con in vantaggio Munter a metà della piegata finale, sempre su Pannonica, accenna la terza ruota Olga De Gleris che trova poco, manda in quarta Manolo ZS, non ha spazio a Nord-West per respirare all'ingresso della dritta di arrivo. Munter in vantaggio nei confronti Pannonica, cerca di dirsi alla lotta anche Manolo ZS, ma Munter nel tratto continua a mantenere la meglio.